Una settimana che la cerco, sa? Dovrebbe mettermi una firmetta su questa notifica. Ormai la procedura è diventata esecutiva. Deve lasciare l'appartamento e entro fine mese. Sono solo gli angeli che volano. Hanno le ali grandi che muovono tanta aria. Sei tu. Sapevo che saresti venuto. Un giorno vorrei che mi faresti vedere la tua casa dentro a muri e che resti con me e la mamma per sempre. Io so che ci sei e so chi sei. Tu sei l'angelo di amore. Ooooooooh 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 Ooooooooh